Buonasera mister Auteri, insomma una partita equilibrata, un vero e proprio big match, due squadre che si sono affrontate a viso aperto, è stata una partita anche molto divertente per il pubblico, l'ha decisa un super golo come diceva mister Pazienza di Lorenzo Sgarpi. Ma ha detto bene lei, io comunque sono soddisfatto di quello che la mia squadra ha fatto, ha giocato con grande personalità, per tanti momenti abbiamo preso il controllo della gara, abbiamo difeso bene, siamo proposti bene, abbiamo creato anche potenzialmente sempre situazioni pericolose. Nell'ordine degli episodi potremmo fare gol prima noi con Pinato, però poi nel calcio alla fine vince chi fa gol, ma io sono contento di quello che la mia squadra ha fatto, in casa dell'Avellino abbiamo giocato una grande gara, abbiamo giocato con personalità. Al di là del momento che può essere non brillantissimo dal punto di vista dei risultati, il Benevento ci è sembrata comunque una squadra viva, è mancato forse il quid in più proprio negli ultimi 16 metri? Abbiamo fatto 26 gol in 15 partite, negli ultimi 4 ci siamo un po' fermati, in coincidenza anche dell'assenza di Lanini, però sa che c'è la squadra Crea, anche stasera ha creato tanto. Ho un piccolo rammarico, proprio nel momento in cui abbiamo preso gol abbiamo preso il controllo della partita, abbiamo sbagliato un gesto tecnico negli ultimi 20 metri, dando un po' di coraggio all'Avellino che in quel momento stava subendo anche con continuità la nostra pressione, le nostre iniziative. Questo rimane un piccolo rammare, le avremmo potuto fare meglio in quella situazione, però poi io sono contento di quello che la squadra ha fatto in termini di prestazioni, non abbiamo assolutamente sfigurato, anzi per tanti momenti. Però poi alla fine conto il risultato e nel calcio, soprattutto questo tipo di partite, chi fa gol vince. Grazie mister, grazie mille.